Allora è molto vergine e poi si è fermata la giostra, tutti fermi, tutti chiusi dei box, tutti con la panza tanto, gli altri si è fermato un sacco di vino, non lo dico quanto ne ho finito, però vuoi farci fare la moto, grazie a Dio. E allora mentre si è appaticato, la fece, sei? Sì, mi sono uscito dopo il pilofano. Maestro Mario, un po' di pazza Raffaele, la fece tutta la terra, come lì? Accordate un momento, ci fai a chi parla. E dovete sapere che l'umidità fa, questi strumenti che noi usiamo, tambure, chitarre, vanno sì che si appoggiano, va bene, va bene, quindi ci vuole un po' di tempo per registrare un po' le cose. Perché non posso dire? Noi veniamo dalla costiera maffitana dove ci sta una tamburiata, abbastanza una festa, sempre della Madonna, come lo c'è di Simone, le sette sorelle, ma anche se chi ha stai feste. Lui ne ha date sette, ma sono di più, perché gli è convenuto fare quello. Ma le feste sono tante. E da noi, 50 giorni dopo Pasqua, c'è stata la festa che ho passato in bagna, la Madonna dell'Avvocato. E voi, noi siamo abbastanza portatori di questa festa, di questa suonante, la suonante dell'Avvocato, che dopo vi facciamo ascoltare. E questa festa si svolge dopo questa montagna, perché se Dio non ci sta la stradina. Si va a piedi, e che muro. E per forti speriamo che non la fanno male. Ci vogliono un paio di oretti per arrivarci. E proprio oggi, stamattina, una caravana dei Damorrali, che sono tuoste nei faciteria droga, perché i Damorrali sono veraci, sono come a suo posto, ci basta con cuore la storia, sono saliti sopra la montagna ad emozione di creare queste piccole feste che non si sono state fatte nel periodo del Covid. E quindi vi invito tutti quanti a questa festa che si svolge a Pentecoste, 50 giorni dopo Pasqua, il lunedì. Tra bene, si provi? Vai! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.